Oggi, in queste due ore, parliamo di... Faccio un passo indietro, ho aspettato un attimo. Allora, prima di dirvi cosa facciamo oggi, vediamo a che punto siamo arrivati in questa architettura. Siamo ovviamente molto indietro, ma pian piano andiamo avanti. Allora, quello che abbiamo visto essenzialmente l'ultima due volte, escludendo il feedback sui progetti, è stato come far parlare un computer, l'altra volta avete avuto un accenno di Raspberry, con le Philips Hue, che sono uno dei dispositivi, e come farle parlare con dei dispositivi Z-Wave, martedì. Non abbiamo visto e non vedremo come parlare con il Fitbit, nel senso che il Fitbit ha delle API REST Cloud che rispondono con un JSON, esattamente come le Philips Hue. è esattamente come Z-Wave, quindi lo stesso meccanismo che abbiamo utilizzato si utilizza anche per qualunque altra piattaforma HTTP REST che fornisca delle API. Con la differenza ulteriore che nel caso del Fitbit, davvero voi parlate col cloud, quindi non avete operazioni in locale da fare, non c'è il bottone da premere come nella Philips Hue, non ci sono i dispositivi da associare come nel caso Z-Wave. Semplicemente voi parlate col cloud, come queste informazioni di Fitbit arrivino al cloud, possono arrivare perché l'inserita a mano da un'applicazione o dalla pagina web di Fitbit, o possono arrivare in automatico dal braccialetto, che sarà associato via Bluetooth a un telefono dove ci sarà l'applicazione standard di Fitbit, quindi non c'è niente di particolare. In più, se non sbaglio, ad applicazioni web, l'ultima volta che abbiamo parlato, diceva che vi avrebbe fatto vedere lui come recuperare alcuni di quei dati dalla piattaforma cloud e come mostrarli in una pagina web. Quindi in parte dovreste vederlo lì. E degli altri dispositivi che sono elencati qui nella home station ci sono delle casse, ma le casse si possono attaccare via jack e sono un dispositivo per fare della musica o per eseguire un file audio qualunque, come su un computer normale. Quindi, oggi proviamo a allontanarci un attimino dall'home station, nel senso che qui, nell'home station, ci sarà poi un programma, ipoteticamente Java, che scriverete voi, che farà quello che dovrà fare il vostro, che seguirà la logica del vostro progetto e che da una parte appunto parlerà con i dispositivi nei modi in cui abbiamo accennato e con l'altra eseguirà la logica propria del progetto. Questo programma poi dovrà parlare via MQTT con un server. Questo server avrà due componenti. Una è Mosquito, che però è un software, che è un broker MQTT, è un software già fatto, è solo da configurare e utilizzare, non c'è niente da programmare lato server per Mosquito, e avere un'interfaccia REST, quindi un server HTTP, che per chi farà il progetto con applicazioni web potrebbe anche essere fatto in .NET. quella parte qui, la parte nel server, la parte, diciamo, identificata nel cloud. Non ci mettiamo a far girare un software .NET su Raspberry, su Linux, su Raspberry e con Linux. Quindi quello che... e poi la parte qui in alto è solo esemplificativa, quindi chi farà applicazioni web, dovrà realizzare la parte sopra, chi invece non farà il progetto di applicazioni web, la parte sopra potrà essere accennata o semplicemente in questo momento evitata. Quindi quella con le persone in alto. Mentre l'interazione con le persone nei vostri progetti sarà all'interno dell'home station. Quindi non al di fuori. Quello che facciamo oggi è parlare di un framework web Java, che si chiama Spark, che non è, se voi cercate su internet, Apache Spark, che è tutta un'altra cosa. Questo si chiama Spark, lo stesso, non è Apache, ma è un framework web. E questo framework web può essere utile sia per realizzare un server HTTP REST qui, a livello, diciamo, di cloud, sia per realizzare un server HTTP, REST o meno, nella home station. Giusto per collocarci dove siamo arrivati. Allora, Spark. Oggi parliamo di Spark, di questo Spark qui. L'idea è, in un'ora, un'ora e un quarto, di darvi un'introduzione a Spark e provare a realizzare alcune chiamate, alcune API REST con Spark, insieme, col supporto di IntelliJ, e poi, nell'ultima mezz'ora, 45 minuti, farvi provare a estendere quel server REST con altre chiamate, con altre due o tre API. Allora, l'obiettivo, l'abbiamo già detto, è creare dei servizi REST, stavolta in Java, imparando un framework che è semplice, ma, d'altra parte, è estendibile. Per semplice, intendo che Spark è definito come un microframework. Voi sapete cos'è un microframework? O che cos'è altro rispetto a un microframework? Cosa dirà il nome micro davanti al framework? Piccolo. Ci sono, diciamo, in genere, due grosse categorie di framework. Uno sono i microframework, e gli altri sono quelli che, in genere, vengono chiamati full edge, o full bledge framework. Cioè, quelli che, da una parte, fanno tutto, qualunque cosa, voi possiate chiedere a un framework web, loro ve la danno, anche se a voi non serve, loro ce l'hanno, e poi ci sono i microframework, quelli che cercano di fare il minimo indispensabile per fornire, in questo caso, un server web. astraendo certe funzionalità base, come la possibilità di rispondere a chiamate HTTP, che è il lavoro di un framework, ma evitando di avere tutta una serie di componenti presenti dal giorno zero. Allora, Spark è, appunto, rientra in questa categoria dei microframework, e la loro frase pubblicitaria è un microframework per creare applicazioni web in Java 8, col minimo sforzo. Nel senso che Spark non funziona con Java 7, innanzitutto. e Spark è principalmente utilizzato, secondo anche gli stessi creatori, per creare server web con API REST. Quindi non tanto per creare siti web normali, ma per API REST. Se voi andate a vedere sul sito, e in realtà nella frase pubblicitaria hanno aggiunto in Kotlin, perché stanno realizzando anche la versione Kotlin di questo microframework, se voi andate a vedere in fondo, da qualche parte, dice qui in fondo, negli utilizzi tipici, dice che più, un survey che hanno fatto nel 2015, dice che più del 50% degli utilizzatori di Spark l'ha utilizzato per creare API REST. e poi gli altri si dividono in applicazioni web e altri tipi di servizi, API non REST, eccetera, eccetera. API che utilizzano una parte di HTTP e una parte non, eccetera. Quindi per noi questo dovrebbe essere abbastanza adeguato. è un microframework, quindi ha alcuni componenti al suo interno, ovviamente, per esempio supporta le sessioni, supporta i cookie, supporta i redirect, le cose è base che qualunque server, che qualunque framework dovrebbe avere, ma non supporta, per esempio, cosa che altri framework molto più ampi hanno dal giorno 1, un motore per fare il templating di pagine HTML, quindi scrivere Java all'interno di pagine HTML e poi avere il tutto renderizzato. Non supporta l'ORM. Voi sapete cos'è l'ORM? L'ORM sta per Object Relation Mapping. È un sistema che in automatico crea delle classi Java partendo da una struttura di DB e vi permette di, e comunica automaticamente con DB sottostante. Quindi voi chiamate delle classi Java e l'ORM si preoccupa di fare le relative query sul database senza farvi scrivere SQL. direttamente. Quindi lui non ha questo supporto di default dal giorno zero. Se lo volete, se volete interagire con un database, potete fare le query SQL come fareste normalmente. Quindi non ha tutta questa serie di pacchetti insieme al framework, ma è stendibile nel senso che sia gli sviluppatori sia di Spark sia altri hanno poi realizzato delle estensioni di Spark per raggiungere tutte queste funzionalità. Allora, la differenza è quasi più una differenza diciamo, chiamiamola filosofica. In Spark voi scaricate il framework piccolo e poi aggiungete i componenti che vi servono quando vi servono. nei framework grossi, per esempio Spring, se vogliamo rimanere in ambito Java, voi vi scaricate e tutto. Poi non vi serve l'ORM e l'avete scaricato essenzialmente. Non vi serve l'HTML templating engine perché volete fare dell'API REST l'avete scaricato. L'avete lì. Gira insieme al vostro programma nessuno mai lo chiamerà ma l'avete. Questa è una filosofia opposta. Quello che volete dovete cercarvelo e scaricarvelo. Noi per quello che faremo, per quello che farete nei progetti ci basta ovviamente la parte standard del framework. Poi se volete essere più comodi a fare alcune operazioni, per esempio l'operazione al database, potete scegliere di scaricare il pacchetto per l'ORM ma altrimenti le potete fare come avete fatto finora qualunque chiamata a un database e qualunque interazione con un database in Java. Che avete fatto nella vostra vita, sì? Sì? No? In Java? No. Bene. E che database avete usato per interagire in qualunque da qualunque altro linguaggio di programmazione? MySQL? Postgre? Ok. Va bene, ci arriviamo. Allora, come si installa Gradle? Eh, come si installa Gradle? Come si installa Spark? o si scarica il jar e lo si inserisce nel programma oppure si può usare Gradle oppure si può usare Maven? Qui vedete quello che vi dicevo a voce l'altra volta che c'è un mapping uno a uno tra Maven e Gradle dove il gruppo è la seconda componente poi c'è un altro due punti e poi in fondo c'è la versione quindi le stesse informazioni che ci sono su Maven si possono scrivere senza problemi su Gradle e come vi dicevo Gradle può usare tutto quello tutti i pacchetti gestiti da Maven pubblicati per Maven Allora l'applicazione minima per far funzionare dopo averlo installato un server web con Spark è questa e allora cosa fa questa? Prima di tutto vabbè importa Spark se no non può usare le sue chiamate dopodiché vabbè ha una classe questa classe contiene un main e fin qui tutto come il solito dopodiché Spark entra in gioco con questa riga questa riga vuol dire che voi volete definire vuol dire un sacco di cose vuol dire che voi volete definire una porzione di URL del vostro server che si chiama hello questa parte qui tra virgolette quindi voi scriverete localhost o l'indirizzo del server due punti la porta eventualmente slash hello e voi volete che lì quando si va a quell'indirizzo si esegua quello che è riportato nel codice volete che a questo indirizzo si risponda a una get ed ecco che c'è il metodo get all'inizio se ovviamente volete una post basta scrivere il metodo post e l'indirizzo dopodiché c'è questa espressione lambda che ha come effetto netto quello di dire ok visualizza la stringa hello world quindi se voi andate se noi copiassimo questo in un progetto installassimo le dipendenze facessimo partire il server e andassimo poi l'indirizzo localhost 4567 che è la porta di default di spark slash hello sul browser vedremo scritto hello world e spark di default sta attivo finché non terminate il processo poi c'è un modo nella documentazione di sul sito di spark c'è la documentazione che ripete quello che essenzialmente ho in parte già detto e c'è per esempio anche scritto come stoppare il server quindi c'è un un metodo stop per cui voi potete stoppare da codice il server e farlo ripartire a vostro piacere per esempio o come cambiare le porte e quant'altro più una serie di tutorial semplici brevi brevi o intermedi lunghi se volete approfondire per esempio vi spiega come creare un clone di twitter o fare del testing ma al di là di tutto questo il server appunto sta acceso finché non terminate il processo che nel nostro caso va anche è anche il desiderata perché voi vorreste che il vostro progetto sia nell'home station sia nel cloud quello che chiamiamo cloud che in realtà è solo un altro server giri finché non avete più bisogno allora come vi dicevo di default spark gira sulla porta 4567 la porta può essere personalizzata via codice con un metodo che si chiama port e eventualmente si può anche rimpiazzare il web server embedded dentro spark con un web server java a vostro piacere per esempio qui c'è questo indirizzo che è un indirizzo della documentazione e vi fa vedere come rimpiazzarlo per esempio con non lo so con altri server di default lui usa getti qui c'è tutto una serie di istruzioni su come rimpiazzarlo come attivare HTTPS eccetera 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 se aveste un certificato e così via e adesso proviamo a incollare questo dentro IntelliJ e farlo girare ma io prima ho detto che c'è una espressione lambda voi sapete cos'è un'espressione lambda a grandi linee sì quindi posso far finta di niente e andare avanti sì no ditemi voi diciamo due parole su lambda oppure le ignoriamo e proseguiamo diciamole allora le espressioni lambda sono una cosa dopo due ne diciamo sono una cosa che derivano dalla programmazione funzionale che sono state giunte in Java 8 prima di Java 8 non esistevano e sono state aggiunte principalmente per abilitare la programmazione funzionale ma come effetto secondario e desiderato anche per avere un po' meno di codice sbrodolato e avere un codice un pochino più conciso allora Spark nella definizione dei metodi utilizza le lambda non so se esiste e quando ci ho provato non ci ho fatto a farlo funzionare una versione non lambda di quei metodi allora però volevo far darvi un'idea di una versione invece di un oggetto che è il runnable che invece di cui esiste la versione standard è la versione lambda il runnable sapete che cos'è sì se dico runnable è chiaro a tutti cosa se è un runnable in java sì quindi il modo standard di definire il runnable è quello al net se non volete implementare una classe apposita ma farlo nel codice e lo definite in un runnable a quel punto il runnable ha un metodo dentro obbligatorio che è run e all'interno del metodo run fate quello che vi serve da eseguire in un thread separato tipicamente allora in questo caso vedete che scrivete new runnable poi compare il public void run e dentro in questo caso scrive system out print line hello world 1 la versione lambda quindi togliendo gli spazi abbiamo scritto togliendogli a capo abbiamo scritto le righe vuote una, due, tre, quattro cinque, sei righe per stampare una stringa a terminale in un thread separato la versione lambda è questa di una riga sola quindi si definisce il runnable e poi questo sta a indicare una funzione anonima nel senso che non ci interessa davvero che questa si chiami run e quella si chiami new runnable ce n'è una sola dentro il runnable potrebbe anche chiamarsi Pluto ma tanto ce n'è una sola quindi diventa anonima in questo caso perché non ci interessa sapere qual è specifica tanto di nuovo ce n'è una sola e diciamo che questa funzione anonima del runnable che è l'unica che c'è deve fare questa riga che è la stessa che abbiamo messo dentro il metodo run quindi questa è la versione identica ma in formato lambda delle sette righe precedenti dove praticamente si collassano il new runnable con il metodo in override public void run e questo si può fare lo ripeto perché runnable ha solo un metodo in override in questo caso e quindi si può usare questa come funzione anonima di runnable allora voi vedete che in spark la cosa è molto simile questo è la funzione anonima quella con rec res funzione che in questo caso ha due parametri una è la richiesta http e l'altra è la risposta http quando viene quindi al get sull'elo viene chiamato quel metodo anonimo che ha due parametri quei due parametri vengono passati al corpo della funzione corpo della funzione che in questo caso è solo nell'oward perché questo è pensato per rispondere qualcosa in un browser epoteticamente quindi non è necessario scrivere system out print line quello stampa nel browser in questo caso è l'oward se volesse stampare sul terminale sulla console invece potreste tranquillamente scrivere system.out .print line nell'oward laddove c'è scritto l'oward allora prima di provare a incollare quel progetto di partenza dentro IntelliJ voi vedete sempre in Spark ogni URL che volete definire in Spark sia essa una URL per un server REST sia essa un'RL per invece un sito web ha sempre inizia sempre con il verbo HTTP GET che è il nome del metodo il nome della funzione GET POST e quant'altro dopodiché c'è la URL a cui la risorsa sarà visibile come prima hello in questo caso è direttamente nella root dopodiché c'è quella funzione anonima con le due parametri che possono essere scritti in realtà a vostro piacere hanno un nome a vostra scelta prima le abbiamo chiamate REC REST adesso le possiamo chiamare in maniera estesa request response la prima è sempre la richiesta e la seconda è sempre la risposta dopodiché se la funzione se il corpo della funzione che volete chiamare è più di una riga nel caso precedente era una riga quindi era composta da un'intera da solo una riga e quindi si può mettere subito dopo la freccia tutto il contenuto tutto il corpo della funzione se come capita invece più spesso il corpo della funzione è composto da molteplici righe dopo la freccia si aprono le parentesi graffe e a quel punto si inizia a scrivere il vero corpo della funzione del metodo che in questo caso è di nuovo una riga ma potrebbero essere molto di più il contenuto della risorsa da ritornare in Spark è ritornata con lo statement return quindi ogni risorsa implementata in Spark ha una funzione strutturata in quel modo che inizia sempre lo sto solo ripetendo che inizia sempre con un verbo HTTP scritto minuscolo come primo parametro ha la URL la porzione di URL senza HTTP e il nome l'indirizzo o il hostname del server ovviamente poi una funzione anonima che ha il corpo della funzione che esegue quello che voi volete che quella chiamata faccia e poi se dovete tornare qualcosa come risposta come contenuto della risposta dovete farlo con il metodo return questo è come funziona Spark per questo che loro dicono che è tutto sommato semplice perché volete fare 80 get dovete scrivere 80 metodi volete fare una get un post un put una get un post un put e poi pensa lui a fare il routing e quant'altro e a chiamare la funzione giusta per fare la cosa giusta ok allora proviamo a vedere se è vero che Spark funziona in quel modo ritentiamo con IntelliJ sperando che stavolta di aver imparato allora creiamo un nuovo progetto un progetto GradleJava come l'altra volta gli possiamo dare di nuovo un gruppo id io gli do sempre i tu pori t2 e come artifact id possiamo dargli getting started giusto per perché facciamo solo un esempio semplice con Spark adesso poi mettiamo la spunta su usa lato import e lasciamo tutto il resto di default come l'altra volta come nome del progetto siamo contenti che sia lo stesso nome dell'artifatto e facciamo crea a questo punto come l'altra volta Gradle parte e inizializza tutto grazie a tutti ok e come l'altra volta non ci crea la cartella src e quindi bisogna andare nelle il modo ve lo ricordo il modo raccomandato e andare nelle preferenze e sotto build tool Gradle mettere la spunta su crea directory per i contenuti di root vuoti automaticamente a quel punto riparte Gradle e dovremmo avere il la cartella source collegata col source set di Gradle allora quello che quello che dobbiamo fare adesso è aggiungere la dipendenza di spark in modo che venga scaricata e compilata quando ci serve quindi cos'è che dobbiamo fare? ok compile nelle dependencies e andare a scrivere quello che c'è sul sito di Gradle di Spark essenzialmente quindi compile tra virgolette com.sparkjava due punti sparkjava trattino core due punti la versione l'ultima versione la 272 allora a quel punto IntelliJ quando si modifica il build.gradle fa partire un altro processo di build in automatico e se noi a questo punto andiamo a creare sotto src main java una nuova classe java che chiamiamo hello world e facciamo come ci dicono quelle di Spark incolliamo dentro le stesse cinque righe un po' di più che ci danno loro dovremmo aver ottenuto il nostro web server che usa Spark e che all'indirizzo hello ci risponda hello world con una get notate che IntelliJ vi abbina a fianco a alcune alcuni parametri il nome di quel parametro quindi per esempio a fianco hello ha scritto path che ovviamente non è una cosa che avete scritto voi ma è un autocompletamento lui per ricordarvi che quello è la porzione di url che vi interessa infatti se voi lo modificate ecco se voi lo modificate dovrebbe toglierlo ma in realtà hanno deciso di lasciarlo permanente per ricordarvi che quello è sempre il percorso lo fa per alcuni parametri per quelli che riesce ad agganciare in maniera corretta però non è una cosa che scrivete voi vedete prima delle virgolette non si può cancellare niente allora se noi adesso facciamo run di questa classe visto che è un main venga e apriamo un browser alla porta 4567 e apriamo un browser alla porta a localhost 4567 slash lo quello che vediamo è come ci aspettavamo una pagina web in cui dentro c'è solo scritto come testo hello world quindi appurato che Spark funziona e quando lanciate Spark vi lancia questi tre questo warning che essenzialmente dice vi manca un logger e quindi io non so come loggare sulla console nell'esempio che faremo aggiungiamo lo stesso logger che ci raccomanda lui slf4j e così invece del warning vediamo per esempio che il server web è partito vediamo per esempio che chiamate abbiamo fatto se è arrivata una get se è arrivata una post se c'è stato un errore se ha risposto 404 500 interno al server error vediamo qualche comportamento che il server ci fornisce indietro e questo lo facciamo tramite grado quindi il server rimane acceso come ho detto finché non lo spegnete voi quindi interrompendo il programma si interrompe anche il server allora il prossimo passo è partire ovviamente da una cosa simile a quella che abbiamo appena fatto e però costruire un vero server al resto allora per provare ovviamente ci serve un qualcosa da restituire da questo server allora per provare nell'esempio che che faremo adesso proviamo a costruire un server rest che restituisca e permetta di aggiungere una serie di cose da fare una sorta di task manager molto molto di base quindi vogliamo realizzare un server con spark che prima di tutto sia collegata a un database per avere questa lista di task e per eventualmente aggiungere o cancellare dei task quando viene chiesto un task da aggiungere o da o da visualizzare il task ha due campi uno è il contenuto della cosa da fare e il secondo campo è se il task se la cosa da fare è urgente oppure non è urgente memorizzata come uno come zero quindi come intero e in quello che faremo noi noi vorremmo fare tre API una per mostrare un singolo task una per mostrare tutti i task e una per creare un nuovo task aggiornare un task e cancellare un task le lasciamo momentaneamente da parte giusto per partire con tre esempi quindi se ricordate dalla parte rest che abbiamo fatto un mese fa mostrare un singolo task vuol dire usare il metodo HTTP mostrare un singolo task mostrare una singola risorsa vuol dire usare il metodo HTTP avete quattro possibili risposte di cui tre sbagliate mostrare se dovete mostrare farete una una get sì esatto se invece vogliamo mostrare tutti i task useremo di nuovo una get invece per creare un nuovo task una post una post giusto vabbè allora prima di tutto prima di tutto nella costruzione di un API rest dobbiamo identificare qual è la risorsa e come si chiama questa risorsa qual è la risorsa che vogliamo rappresentare qual è la risorsa che vogliamo rappresentare un task e quando si progetta un API rest questa è la prima scelta che si fa non solo di identificare qual è la risorsa che vogliamo identificare ma come la chiamiamo perché potremmo chiamarlo task potremmo chiamarla to do potremmo chiamarla cosa da fare bisogna scegliere un nome significativo e utile contando che in rest quel nome finirà anche nella URL quindi la risorsa è task che mi sembra ragionevole la collezione voi ricordate che in rest c'è una risorsa e poi si accede alle collezioni di quella risorsa e la collezione si chiamerà no sì possiamo chiamarla collection task tipo così oppure un po' più corto magari task meglio task direi che non collection task sono valide tutte e due non è che uno sia solo che questa è un po' più corta allora poi noi cosa vogliamo fare vogliamo mostrare tutti i task mostrare il singolo task e aggiungere un task allora per mostrare tutti i task dobbiamo fare abbiamo detto una get a quale porzione di indirizzo quindi qui ci sarà scritto http qualcosa alla collezione quindi tasks ok per mostrare il singolo task invece abbiamo detto una get quindi scrivo slash task no cosa scrivo sì quindi tasks slash l'id esatto uno cinque quindi il nostro task avrà un contenuto che non usiamo come id un campo urgente che di nuovo non usiamo come id e ovviamente un identificativo che sarà qui ma guarda caso sarà anche l'id del database per esempio e e dobbiamo passare qualcosa a queste due get nella richiesta no in tutte e due bisogna passare qualcosa nel corpo della richiesta no è una get e ovviamente avremo invece una risposta che non stiamo a scrivere qua però risponderà in tutti e due casi per esempio un json uno con tutti gli elementi del task tutti i task con le loro descrizioni urgenti eccetera e nel secondo caso solo il task richiesto per aggiungere un task invece facciamo una post a tasks siete tutti convinti ed è d'accordo sì forse no chi è che dice che è giusto nessuno qualcuno ha detto task quindi chi è che dice che è sbagliato nessuno dobbiamo passare un id di cosa come parametro nella url ma poi sicuramente questo ha un corpo della richiesta che per esempio avrà dentro description qualcosa e urgent 1 quindi ha sicuramente una post un corpo ma la url va bene così dobbiamo modificarla è più facile di così va bene così o no chi è che dice sì gli altri si astengono hanno ragione i due che dicono sì va bene così per creare una nuova risorsa si fa una post sulla collezione perché non ci vuole l'id perché l'id non lo sapete e volete davvero che qualunque ma oltre a non saperlo se voi ammetteste che qua o nell'url o nel corpo della richiesta ci fosse un id voi contate sempre che l'url e il corpo lo passano i client quindi ogni client si inventa un id a caso e poi come facciamo a assicurarci che l'id sia univoco se è già stato utilizzato diciamo al client no non va bene creano un altro e andiamo avanti a tentativi è meglio che l'id lo dia il server che sa quali sono gli id in uso e quali sono gli id liberi ma al di là del ragionamento logico seguendo la struttura rest è una post sulla collezione passando un corpo e questa post risponderà qualcosa esatto quindi per esempio se è andata a buon fine no il 200 ok se è andata a buon cattivo fine per esempio un 403 è un 500 500 internal server error no un 501 not available potrebbe darsi mentre se per esempio non va a buon fine la get tasks risponderà con o la get task 1 o la get task 100 perché il task 100 non c'è risponderà con che messaggio d'errore HTTP che codice 404 quindi si utilizzano tutti questi codici d'errore HTTP perché siamo su HTTP ok allora di base quello che c'è scritto qui nelle slide è quello che abbiamo appena detto con la differenza che in genere prima della URL che identifica della parte di URL che identifica la collezione o il task si aggiunge qualcosa tipo slash API slash il numero di versione come abbiamo visto fare per tutti quegli esempi di API REST GitHub Google che abbiamo visto sempre un mesetto fa però poi non cambia niente quindi slash API slash versione 1 slash task tutti i task task 22 il task quello di 22 beh qui ci sono un po' di esempi e e un po' di link allora quello che adesso proviamo a fare e a costruirlo sul serio allora su dir voi avete già due link uno si chiama progetto di partenza GitHub e uno si chiama esempio di servizio REST realizzato in aula allora tutti e due portano a GitHub tutti e due portano allo stesso progetto su GitHub la differenza in questo momento è che il progetto di partenza è un tag è una release quindi potete scaricare lo zip di questo progetto di partenza e invece nel repository associato a questo tag a questa release c'è il codice sempre del progetto di partenza in questo momento una volta che avremo finito il progetto di partenza avremo finito questo esempio io farò push qui e quindi qui nel repository ci sarà il progetto finito e non quello di partenza e per recuperare il progetto di partenza voi potete usare appunto la release e il tag che è linkato che è appunto anche recuperabile da qua ma in questo momento sono un tag dello stesso dell'ultima versione di quello che è caricato sul repository quindi dato che sono la stessa cosa importiamo in IntelliJ il repository e lavoriamo da là allora questo progetto di partenza ha essenzialmente la parte che io davo per scontata che è la connessione col database ha solo la connessione col database quindi fa le query fa due select e un insert per prendere tutti i task per prendere un singolo task e fare un insert per aggiungere un task un database di una tabella tre colonne l'id che viene assegnato da solo la description che è il contenuto del task e il campo urgent non è niente di però a questo punto diamogli un'occhiata allora per importare un progetto GitHub in IntelliJ oltre ad aprire IntelliJ si va su checkout from version control e si sceglie git quindi checkout from version control git perché volete importare un progetto git a quel punto lì si inserisce qui prima riga url si inserisce la url del repository che da GitHub recuperate dal bottone cloner download potete prendere la versione HTTPS se non siete loggati se siete loggati anche la versione SSH e incollarle in quel campo e poi vuole sapere la directory in cui andare a salvare il progetto su disco in questo caso il progetto si chiama SparkRest e lui lo mette su disco in un progetto che si chiama SparkRest e a me va bene così poi si prema clone e vi chiede se volete creare un progetto IntelliJ partendo da quello che avete clonato e la cui risposta 9 volte su 10 è sì a questo punto vi chiede volete creare un progetto dalla sorgente esistente oppure creare importare un progetto da un modulo esterno che è il modo complicato per dire selezionate importa progetto da un modulo esterno e poi Gradle perché se no non viene un progetto Gradle essenzialmente quindi fosse un progetto Java semplice andrebbe bene anche il primo il primo il primo bottone ma dato che è un progetto Gradle dobbiamo abilitare tutta la parte di Gradle quindi selezioniamo Gradle da qui sotto o fosse un progetto Eclipse lui lo convertirebbe da Eclipse al suo formato attraverso questo secondo meccanismo di import quindi noi selezioniamo Gradle e mettiamo la stessa spunta usa auto import e anche la spunta crea directory per il contenuto vuoto quella che tutte le volte quando creiamo un progetto nuovo andiamo a mettere delle preferenze e qui invece c'è e lasciamo tutto come come è quindi usare il il wrapper Gradle di default e assicuriamoci che la JVM sia trovata sia esistente la trovi e premiamo finish come prima come prima Gradle ci pensa macina un po' in questo caso scaricherà anche una dipendenza che è il connettore per il database allora in Java quando vi dovete collegare a un database vi serve ovviamente una libreria che tipicamente nel mondo Java si chiama connector e c'è un connector diverso per ogni database quindi volete collegarvi a MySQL c'è un connector di Oracle volete collegarvi a MariaDB si può usare lo stesso connector di Oracle perché tanto sono compatibili al 99% e io ovviamente adesso non sto usando né MySQL né MariaDB e anche voi se avete clonato questo progetto non state usando né MySQL né MariaDB perché è un po' scomodo da trasportare un database MySQL dovremmo importarlo farlo partire sui computer importarlo eccetera e quindi per praticità visto che è un database piccolo ed è un esempio e anche i vostri progetti poi saranno relativamente piccoli usiamo SQLite avete mai sentito parlare di SQLite? Sì no allora SQLite è un database di nuovo leggero che non richiede installazioni e che memorizza tutto in una cartella che non ci fa vedere perché non c'è ah no è qui eccola dentro src main resources c'è un file che si chiama tasks.db quello è il database SQLite è un database su file quindi memorizza tutto su file questo è molto comodo per progetti piccoli perché volete portare via il database copiate questo file lo caricate su github e avete tutto il database con voi ovviamente non è non ha le performance che può avere MySQL la scalabilità che può avere MySQL MariaDB post o quant'altro perché è un file però è molto comodo se bisogna fare cose relativamente piccole gestite non da troppe troppe chiamate in ingresso come in questo caso e trasportabile perché io quello che ho fatto è ho preso questo database e l'ho messo su github e voi tutti in un colpo solo avete senza quasi saperlo tutto il database che ho creato in intellij e in tutti i prodotti JetBrains c'è un tab database che io ho a fianco e se voi non lo vedete potete andare in view tool windows e selezionare database che vi permette di vedere il contenuto di molti tipi di database all'interno dell'ambiente di sviluppo e modificarlo anche quindi per esempio noi potremmo aggiungere SQLite e chiamiamolo tasks.db esattamente come come il file allora dato che è tutto su un file l'unica informazione che vi chiede è dov'è il file su disco o in rete dov'è questo file quindi voi semplicemente dovete andare a selezionare su disco sotto src main resources il file del database e lui compila la riga JDBC per fare la connessione e poi vi dice attenzione vi manca il driver vi manca a IntelliJ manca il driver per accedere a questo specifico database basta schiacciare su download e lui lo scarica a quel punto per essere sicuri che funziona fate test connection se viene scritto successful vuol dire che IntelliJ riesce a aprire correttamente quel file dove c'è il database premendo ok vi dovrebbe comparire il task DB come l'avete chiamato che al suo interno ha una tabella task che potete aprire e vedere il contenuto direttamente in IntelliJ quindi in questo momento la tabella task ha tre colonne id description è urgente ha cinque tuple e nessuna delle quali è urgenti cinque cose a caso in modo che quando facciamo un get tutti i task abbiamo una risposta con dei contenuti e da qui si può modificare cancellare righe aggiungere righe tutto dall'interno di IntelliJ ok a questo punto il progetto è composto da quattro classi una si chiama task service ed è vuota ha un main solo ed è quella dove andremo a realizzare il nostro progetto con Spark quindi questa al momento la chiudiamo il progetto ha già in Gradle una dipendenza che è org serial due punti SQLite gdbc che è il connector per SQLite se non è la casella database view tool windows tool windows database se volete tutte le caselle mettete tutte le spunte a tool bar tool button che non avete e vi compaiono tutte le caselle più utili quindi come dipendenza abbiamo SQLite per riuscire a collegarci da Java al nostro database il connettore dopodiché abbiamo tre classi i cui nomi dovrebbero essere abbastanza autoesplicativi una si chiama task cosa ci sarà nella classe che si chiama task esatto l'oggetto task come è composto l'oggetto task è in effetti così è una classe che ha tre ha tre variabili private un intero che è l'id una stringa che è la description e un altro intero che è urgent due costruttori in override uno che permette di costruire un task con id descrizione e urgente e uno che permette di costruirlo solo con id e descrizione mettendo urgente di default a zero e poi ha tre getter per prendere l'id dato che le variabili sono tutte private ha tre getter per prendere l'id la description e l'urgente non ha nessun setter perché noi non vogliamo modificare in questo momento un task vogliamo al di là della creazione poi ha una classe che si chiama dbconnect la classe dbconnect è una classe statica è un singleton che essenzialmente apre la connessione al database non fa nient'altro che aprire la connessione al database e restituirla a chi di chi l'ha bisogno quindi ha una stringa che è la posizione del database la stessa che vedevamo da intellij quindi jdbc due punti sqlite per dire è un database sqlite non è un database mysql e la posizione su disco all'interno del progetto in questo caso src main resources e il nome del database poi essenzialmente quello che fa è prende una connessione apre una connessione al database e gestisce lancia un'eccezione nel caso in cui non trovi il database questo per evitare tutte le volte di dover ridefinire la connessione e poi c'è una classe taskdao che effettivamente fa le operazioni sul database quindi riempie l'oggetto task e fa le query quindi abbiamo per esempio un metodo get all task che fa una select di tutto praticamente da task connettendosi al database preparando la query eseguendo la query sul database e poi finché c'è un nuovo task riempendo una lista di task che verrà poi chiudendo la connessione che verrà poi restituita chiunque chiunque chiamerà get all task il suo fratello e prende un singolo task che è una select come prima dove c'è un where che identifica uno specifico id del task da recuperare e poi è la stessa cosa prende la connessione prepara la query SQL stavolta mettendo dandogli come parametro l'id perché vedete la query SQL unselect campi from tabella dove id uguale a punto di domanda perché il punto di domanda sarà poi riempito con l'id corretto attraverso questo setint sul prepare statement riga 61 poi esegue la query e prende il risultato che ci aspettiamo essere almeno uno ed essere al più uno e con quel risultato crea il task chiude la connessione se c'è un'eccezione lancia l'eccezione la stampa brutalmente e restituisce il task stessa cosa per raggiungerlo un insert into task di valori punto di domanda punto di domanda dove valori punto di domanda il primo è una description e il secondo è urgente quindi prepara come prima la query ci mette i campi giusti che vengono passati da chi chiama questo metodo esegue la query chiude la connessione e in questo caso non ritorna niente perché è un insert potremmo fargli intornare un true false per dire nel caso in cui sei andato a buon filo o no e in questo caso non torna niente quindi essenzialmente abbiamo tre classi che servono per parlare col database e fare queste tre query che sono semplici e poi abbiamo il task service che è vuoto e che adesso cerchiamo di riempire allora prima di tutto dobbiamo importare nel gradle le librerie che ci servono che sono quelle di prima quindi abbiamo da spark che ho chiuso dobbiamo aggiungere un compile com.sparkjava 2.sparkcore 2.272 poi abbiamo detto che spark preferirebbe avere una libreria di logging e quindi aggiungiamo la libreria di logging che voleva quindi compile org.slf4j 2.slf4j simple e slf4j vi dico io che l'ultima versione è la 1.7.21 slf4j è un logger che ha una serie di è una famiglia di logger di cui quello simple è come dice il nome quello più semplice ce ne sono altri più complessi e poi dato che avremo a che fare con the file json come nelle volte precedenti ci portiamo dietro anche la libreria json di google quindi come per le volte precedenti com.google .code.json due punti json due punti e la versione la 2.8.4 ci va anche bene non l'abbiamo fatta apposta ma va anche bene che spark ovviamente è compatibile con json come libreria è una delle librerie per gestire il json che sopporta quindi le prime due righe c'erano già abbiamo aggiunto spark abbiamo aggiunto slf4j e abbiamo aggiunto json quindi il server web il framework web il logger e la libreria per parsificare e produrre json posso togliere? allora per usare spark dobbiamo possiamo partire da quello che abbiamo fatto da quello che c'è sul sito quindi importare staticamente spark.spark.asterisco come ci diceva il sito e poi abbiamo incollato al momento la stessa get che abbiamo visto prima che ovviamente non ci andrà bene e dobbiamo modificare allora siccome dovremo scrivere un più di una riga ovviamente possiamo mettere già le parentesi graffe e il return di hello world giusto per portarci avanti allora prima di tutto inizializziamo un po' di cose che ci serviranno allora per esempio inizializziamo json e importiamolo un po' di cose quindi creiamo giusto un oggetto che chiamiamo json come new json senza parametri senza niente poi definiamo una base url quella api versione 1 come stringa e poi creiamoci anche un task dao che tanto ci servirà per chiamare i metodi per interagire col database quindi task dao chiamiamolo task dao uguale new task dao quindi come new appi quindi allora a questo punto iniziamo con la prima api iniziamo con prendo tutti i task quindi ci va bene una get come percorso dobbiamo scrivere come abbiamo detto prima tasks occhio che però abbiamo detto di appendere prima di ogni chiamata rest API versione 1 quindi semplicemente base url più task poi fatemi espandere questo come request così ce lo ricordiamo e questo come response allora ci siete? se state facendo sì allora cosa dobbiamo fare qui? sicuramente chiamare la query per prendere i dati poi creare il JSON e infine sì e infine riempire la risposta in maniera corretta allora innanzitutto noi abbiamo la risposta sarà un JSON quindi la prima cosa che facciamo è prendiamo l'oggetto response e gli andiamo a impostare il tipo cioè qual è il tipo della risposta? è un JSON quindi application JSON il content type application type application JSON questo stesso content type visto che lavoriamo con il JSON va anche messo prima della variabile anonima quello è l'accept type ora in questo caso essendo una get non è strettamente necessario definire l'accept type perché non mandiamo niente però facciamolo sempre così ce lo ricordiamo sempre di farlo quindi dopo il percorso definiamo qual è il tipo che accettiamo in questo caso il JSON dopodiché nel corpo del metro definiamo il tipo della risposta e auspicabilmente possiamo anche definire lo status lo status code della risposta che se tutto va bene sarà 200 il 200 che è di HTTP a questo punto come diceva giustamente come ti chiami Riccardo possiamo chiamare il il metodo per recuperare i task dal database quindi il metodo è un metodo di task DAO e si chiama get all tasks questo metodo restituisce una lista di task quindi memorizziamo il risultato quindi una lista di task che chiamiamo per esempio all tasks così si lo so che non poi so bene a questo punto abbiamo impostato la risposta preso tutti i task ipotizziamo che in questo momento che tutto vada bene e quindi dobbiamo prendere questi task e convertirli in JSON allora non è è quasi sempre una buona idea che il JSON non inizi direttamente con l'oggetto e una lista di cose ma che abbia un qualcosa un attributo che lo specifici quindi per esempio nel nostro caso potrebbe essere un JSON che inizia con task uguale e la lista di task e l'array di task quindi dobbiamo prendere questa lista di task e metterla in una struttura dati almeno una struttura dati che assomigli a un qualcosa che contiene una coppia chiave valore quindi una mappa una mappa in questo caso di stringhe liste di task che è l'oggetto di prima che chiamiamo per esempio final JSON che sarà un new un new una nuova esmap per esempio quindi una mappa inizializzata vuota in cui andiamo a mettere abbiamo detto come chiave task una stringa e come contenuto la nostra lista di task a questo punto noi dovremmo prendere questa mappa convertirla in un JSON e ritornare il JSON quindi fatemi iniziare a scrivere return final JSON che nel nostro caso è la mappa perché invece di convertirla puntualmente nel codice lo facciamo fare a JSON JSON in automatico è capace a prendere delle strutture dati di default di Java o delle strutture dati delle classi fatte a vostro piacere e annotate opportunamente eventualmente annotate e convertirle in un JSON in automatico allora date che questa è una mappa ed è una lista e dentro la lista ci sono stringhe interi quindi non roba particolarmente strana e finisce subito lì JSON è capace a convertirla in automatico per dirgli per favore convertila in automatico subito dopo la parentesi graffa che chiude il corpo della funzione basta scrivere JSON due punti due punti due volte due punti to JSON questo è un metodo dell'oggetto JSON che abbiamo inizializzato prima ed è un metodo voi potete anche chiamarlo nel codice e passargli un argomento e recuperare la stringa e ritornare la stringa che restituisce JSON questo è l'equivalente di scrivere qui praticamente JSON appunto to JSON di final JSON eccetera 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 recuperare l'oggetto e restituirlo e l'equivalente scriverlo lì ma fa tutto da solo quindi prende in automatico l'oggetto che viene ritornato dal dal metodo quindi proviamo a vedere se funziona innanzitutto quindi facciamo un run del main allora vedete che adesso non vi da più l'errore sul logger ma vi dice per esempio che Spark è partito che sta ascoltando sulla porta all'indirizzo 000 0000 quindi localhost porta 4567 e ha tutta una serie di altre informazioni e vi dice anche quando il server è effettivamente partito quindi started vuol dire che è effettivamente partito quindi se noi adesso apriamo un browser e andiamo ovviamente a localhost hello ci risponde 404 perché non c'è più e andiamo a localhost 4567 slash api slash versione 1.0 slash tasks vediamo io ho un plugin di chrome che mi formatta il json e quindi appare solo più più bello ma vediamo il json vediamo che il nostro json parte con tasks che è esattamente la parola e la chiave che abbiamo identificato ha poi un array json con i nostri 5 tasks ognuno con l'id la descrizione e il campo urgent e queste 5 tasks sono gli stessi che sono nel database senza plugin di chrome dovreste vederlo più come una più così diciamo in teoria dove però c'è il json che parte la chiave l'array che inizia e il primo oggetto che è il primo task ok a questo punto facciamo l'altra get che sarà molto simile a questa quindi copiamo questo così almeno le cose comuni le abbiamo già fatte prendiamo get a single task la nostra url stavolta sarà task due task e poi ci serve l'id allora come facciamo a dire a spark di prendere il numero o il valore che sarà nella url e passarlo al corpo della funzione di prendere solo il primo valore che è quello che ci serve che è l'id lo facciamo con due punti in questo caso id quindi due punti nome di una variabile nome di qualcosa che vogliamo poi riutilizzare nel codice quindi nel codice riutilizzeremo la parola id per recuperare effettivamente quello che si trova dopo task dopo di che come prima accetta un application json e questo lo possiamo al momento cancellare no e quello che dobbiamo fare ovviamente non prendiamo tutti i task cancelliamolo facciamo prima non ci serve a prendere tutti i task stavolta dobbiamo da task.daw fare un get del singolo task giusto? questo singolo task avrà un id che è quell'id che vorremmo prendere da qui sopra come facciamo a prendere questo id da qui sopra lo prendiamo dalla richiesta quindi request .params che parametro vogliamo vogliamo il parametro identificato da due punti id quindi dalla richiesta prendiamo il parametro che ci interessa avessimo più parametri attraverso due punti nome del parametro scegliamo che parametro vogliamo in questo caso da errore perché request .params è una stringa e il nostro metodo vuole un intero perché l'id è un intero e allora quello che dobbiamo fare è convertire una stringa in un intero sapendo assumendo per fede che quello che scriverà la persona là o il client là sarà davvero un numero intero quindi come convertiamo una stringa in un intero ho sentito un pezzo giusto integer punto value of eh no questo metodo getTask ci restituisce un task quindi task task uguale il metodo allora adesso possiamo fare per provare una cosa diversa un controllo perché questo task io potrei chiedere abbiamo 5 task chiedo il task numero 46 che ovviamente non c'è non c'è al momento perché noi ne abbiamo solo 5 ma un client non può saperlo a prescindere quanti task abbiamo quindi potremmo controllare se task è null perché il metodo getTask se non trova un task ritorna null allora se il task fosse null noi cosa dovremmo dare in stile http un oggetto una risorsa non è stata trovata quindi 404 come diamo 404 lo diamo con la funzione halt con la h e poi scriviamo 404 questo interrompe la richiesta e risponde immediatamente senza proseguire con 404 a questo punto possiamo fare quello che abbiamo fatto prima una cosa simile a quella che abbiamo fatto prima quindi preparare una mappa perché di nuovo vorremmo che ritornasse task due punti il task non subito l'oggetto buttato lì quindi prepariamo una mappa che ha come chiave una stringa e come cosa mettiamo qui task lo chiamiamo sempre final json e qui quindi mettiamo un put di task e qua di nuovo task cosa abbiamo dimenticato di fare rispetto a prima impostare la risposta quindi response punto status 200 e response punto type e sempre application json ok questo lo proviamo dopo di conseguenza questo questa mappa è Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.